Un appello per chiedere la fine delle guerre e promuovere la pace è stato rivolto al nuovo governo da una cinquantina di associazioni cattoliche italiane. Il servizio di Alba Di Palo. Il dialogo, il confronto e la diplomazia sono le strade da percorrere con determinazione per cercare la pace e quanto sostengono una cinquantina di associazioni cattoliche, dalle atli e focolari, da azione cattolica, comunione e liberazione, da Pax Christi alla comunità Papa Giovanni XXIII in un appello finalizzato all'adozione di scelte concrete e forti gesti di pace. Come realtà del mondo cattolico italiano e dei movimenti ecumenici e non violenti a base spirituale sostengono vogliamo unire la nostra voce a quella di Papa Francesco per chiedere un impegno più determinato nella ricerca della pace. Affidarsi esclusivamente alla logica delle armi rappresenta il fallimento della politica, aggiungono, il nostro paese deve da protagonista far valere le ragioni della pace in sede di Unione Europea, di Nazioni Unite e in sede NATO. Di fronte all'evocazione del possibile utilizzo di armi atomiche, un gesto dirompente di pace sarebbe certamente la scelta da parte del nostro paese di ratificare il trattato ONU di proibizione delle armi nucleari, armi di distruzione di massa, dunque eticamente inaccettabili, suggeriscono le associazioni, che rinnovano la richiesta al nuovo governo e al nuovo Parlamento affinché, si legge, pongano urgentemente all'ordine del giorno la ratifica del trattato sollecitando i paesi alleati a percorrere la stessa strada di pace.